Abbiamo cominciato con la dottoressa Erika Lumento a parlare quindi di salute, di benessere, di prevenzione, continuiamo su questo argomento con il dottor Domenico Finazzola, buongiorno Mimmo, buongiorno a te Mimmo, grazie caro, eccoci qua anche questa mattina, ho voluto ancora lui perché tutto quello che noi andremo a dire adesso ben si collega anche con quanto avete appena ascoltato detto dalla dottoressa Mumento e cioè in una casistica generale in cui noi abbiamo visto quali sono le principali cause e su cui vengono i dati epidemiologici su cui vengono poi fatti dei veri e propri programmi a livello di salute in Italia ma anche in Europa alcune delle cause principali trovano ragione non nell'ambiente quindi virus, batteri, inquinamento eccetera ma proprio nel comportamento e nello stile di vita che conto in maniera errata produce poi inevitabilmente delle gravi conseguenze sullo stato della salute in generale giusto? certo, noi già la volta scorsa abbiamo visto come la malattia o l'incidente stesso ha più fattori, più cause quindi vedremo dagli ambienti di vita, gli ambienti di lavoro al fattore anche genetico e genotipo però ci soffermiamo su una parte importante invece che sono gli stili di vita o comportamenti scorretti che il cittadino adotta e quindi di conseguenza poi incorre in quella che è la malattia o nell'incidente e in effetti è la causa maggiore perché se noi vediamo proprio da alcuni dati i stili di vita corretti provocano praticamente dal 40 al 50% dei casi che provocano mortalità e morbidità e quindi prego scusami mi invitavo la regia proprio a mandare questo slide, questo che le nostre telespettatrice hanno un quadro chiaro no? certo, quindi noi praticamente su questo ci possiamo soffermare perché gli stili di vita scorretti, comportamenti scorretti abbiamo detto che sono quelli che provocano più tanti e questi stili di vita scorretti sono stati dovuti proprio negli ultimi 50 anni dove c'è stato un cambiamento da quella economica a quella sociale stessa, alla tecnologia all'aumento oppure di disponibilità di farmaci che è vero che ha fatto sì che ci sia stato un aumento della vita del cittadino, della persona, però ha anche creato delle situazioni particolari di malattie cronico degenerative che dei dati epidemiologici abbiamo visto essere abbastanza serie e abbastanza particolari e tra gli stili di vita scorretti abbiamo innanzitutto le abitudini alimentari, abitudini alimentari perché noi comunque abbiamo un'alimentazione scorretta perché è un'alimentazione intercalorica, un'alimentazione ricca di alimenti e di bevande piene di zuccheri, abbiamo abitudini voluttuarie particolari quali il fumo delle sigarette, il fumo non riesce ancora a percepire questo rischio particolare che è il fumo delle sigarette, eppure è la prima causa di morte addirittura, poi ci soffermeremo su questo perché questo è uno dei fattori di rischio più importanti, quindi il fumo delle sigarette, l'abuso di alcol, l'utilizzo di droghe, l'abuso di farmaci da banco in maniera impropria, il gioco d'azzardo che ormai è diventato all'ordine del giorno e poi abbiamo il discorso anche della sedentarietà, abbiamo degli stili di vita che ci fanno stare tanto tempo seduti, ormai se dobbiamo muoverci utilizziamo l'auto anche per fare pochi passi, magari per andare con da fuori le sigarette, perché siamo così abituati all'auto eppure ci sarebbe anche da soffermarsi, visto che siamo in un periodo di crisi in particolare, utilizzare l'auto dove praticamente il carburante costa quello che costa, potrebbe essere tranquillamente risparmiato facendo qualche passetto in più, esatto, in base a dei passi più che ci farebbe, sempre bene, certo lo sport è importante ma basterebbe anche camminare, lavorare bene, anche camminare, cioè avere anche un'andatura sostenuta, fa benissimo, per i soggetti che magari non possono fare sport a certi livelli fa anche meglio, quindi basterebbe ripeto muoverci a qui tranquillamente, imparare a salire scendere le scale, addirittura scendere le scale, scendere le scale chissà pure, ma salire, io che abito un settimbre, mi immagina che torno magari alle due e mezza del pomeriggio, dopo la giornata di lavoro eccetera, magari con la spesa, se uno ha la spesa dei carichi, insomma io lo sconsiglio, è impressionante, ed è impatto, arrivi su che non è successo, io arrivo su che ho un respiro proprio. No, però il fatto di, se sei libera la base, è importantissimo, anche io abito a un sesto piano, un settimo, e i miei condotti che mi vedono, io stavo scendo a film, inizialmente si preoccupavano, però una volta che ti abitui fa veramente bene la circolazione, Poi con i tempi che devono essere tutti e sette, potete essere un giorno uno, un giorno due, un giorno tre, che abbiano piano il corpo, esatto. No, ma anche per esempio scendere le scale, va benissimo, perché scendere le scale, si consuma tante calorie, perché la persona nello scendere le scale deve assestare tutta una serie di muscoli per l'equilibrio e quindi il consumo energetico è tanto, addirittura che si prevede, se noi mettiamo a paragone un'ora di nuoto con un'ora di discesa di scale, si consuma più scendere le scale che facendo il muoto, addirittura 600 calorie nello scendere le scale a dispetto delle 500 facendo il muoto, quindi mettere in evidenza l'importanza, perché poi tra l'altro iniziamo anche a non utilizzare l'ascensore, quindi evitiamo anche il consumo energetico, evitiamo l'uscita dell'ascensore, perché no? In un periodo come questo fa anche bene tutto questo, fa anche bene tutto questo. Quindi torniamo all'altra, e quindi la sedentarietà e poi lo stress, sappiamo bene, quindi dimmi ti dico che... No, stavo pensando che proprio l'altro giorno abbiamo mandato, c'era una dedica simpatica evidentemente, il figlio che augurava un compagno a sua mamma, e ha scelto una canzone, una canzone che sicuramente ti troverai ascoltata, quindi sto lottando dallo stress, fumo poco e dopo un gioco a pezzo, pezzo che è un gioco con quelli, sapete quelli elettronici che i ragazzi sanno davanti alla televisione, non alla macchina, perché faccio il domino che avremmo un superiore pubblicità, allora lo stress, io rido quando sento queste cose, ti spiego per te, perché sotto l'ombrello dello stress viene messo ormai di tutto e di più, anche quello che tu sai perfettamente, c'entra veramente poco con lo stato mentale, cioè oggi va a lo stress, sai ho dormito un po' bene, quello è lo stress, c'ho successo alla testa, lo stress, a volte, come si fa ad abbracciare, a volte si fa un utilizzo improprio di questo testo, anche se poi lo stress, ci sono due fasi di stress, è venuto a mare il dolce, lo stress, ci sono due fasi di stress, nella fase di stress, nella fase di stress è positivo, perché è quella fase che ci permette di fare tante cose, delle cose in cui siamo in difficoltà ad esempio, dove si mette in cerco quella della linea giusta che poi ci dà la forza per farle, e invece sono delle situazioni ovviamente dove noi andiamo sempre in stress che poi ci provano dei danni, che è la fase di stress, lo stress certo di questo periodo è dovuto al fatto che abbiamo una vita abbastanza frenetica, abbiamo una vita frenetica, i bambini con i nostri bambini stessi insomma avevano la scuola e poi la danza e poi quest'altra attività e poi quest'altro, insomma diventano tante attività che poi piuttosto che far rilassare e dare salute a me abbiamo spesso, parlo di energia ecco, io sono delle diana, voglio dire noi siamo, io sono 61, no? non sei più un po' di me, ma io sono una generazione, la mia come la mia quella, ancora qualche anno dopo, quindi diciamo più o meno fino agli anni 70, noi siamo più sui di strada alla fine di romperi ma dove è scritto che il bambino deve fare scuola, dopo scuola, palestra, pianoforte, danza, tanto e poi il genitore deve fare da autista accompagnata per queste attività il genitore poi fa lo stressato perché deve accompagnare ripeticamente il figlio tra l'altro molte di queste attività sono anche a pagamento allora io, io, cioè, ma come si sa? sarebbe meglio che i genitori e i figli farebbero una bella passeggiata in campagna no, 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 no ma arriviamo al mare, noi abbiamo la fortuna di avere il mare a due parti ma io capisco che lo stiamo parlando stiamo vivendo la famosa estate di San Marcello quindi le temperature veramente consentono ancora di giocare per il nado di giocare nelle ville e fare, come diceva Mimmo, una bella passeggiata sulla spiaggia con i cammini di danza bicicletta da quest'ora a quest'ora danza da quest'ora a quest'ora la catechese, come giusto che sia da quest'ora a quest'ora la merenda diciamo noi che ci vediamo certo, noi già abbiamo questa vita frenetica poi abbiamo anche i fattori ambientali che abbiamo, per esempio, lì abbiamo una città abbastanza rumorosa e quindi il rumore è uno dei fattori pure di diritto che provoca i problemi di stress e lo stesso inquinamento chimico perché ci sono dei vinculanti che si trova con questi disturbi da livello umanale l'accesso al fumo di sigarette insomma, quindi abbiamo queste disturbi gustuari che ci creano proprio questi danni alla fine sul nostro sistema nervoso e quindi abbiamo anche lo stress 80 potremmo poi disaffermarci che e poi abbiamo anche il discorso della pubblicità noi abbiamo pubblicità ma tu stai facendo una stai facendo una faccia particolare in effetti noi abbiamo una situazione particolare sulla pubblicità furta sulla pubblicità subcriminale per esempio esatto e dovremmo trovare qualche esempio No, poi ci possiamo soffermare alle nostre telespettatrici per far comprendere quanto può essere subito un senso del messaggio ma giusto per farci capire la pubblicità subcriminale è quella pubblicità che praticamente vediamo in un certo modo però percepiamo altro perché è il nostro cervello che apprende altre cose è per capire perché la pubblicità attenzione non è che perché noi siamo un po' fuorviati è perché la pubblicità nasconde dei vissanti e quella si chiama pubblicità esatto diciamo ecco da quella pubblicità scorretta che viene fatta ma questo tipo di discorso lo troviamo anche nei film giusto per capirci il discorso subliminale come avviene un'immagine formata da sei fotogrammi quello che noi vediamo con i nostri occhi sono soltanto quattro invece le altre due parti non le vediamo però le percepiamo col cervello e solitamente si va a gire su queste due parti su questi due fotogrammi dove ci mettono tutti tempo fa se qualcuno lo ricorda sono stati sequestrati anche dei cartoni animati della Walt Disney per esempio che anche Bernie che è un cartone che io mi ricordo da piccolo l'ho visto l'ho visto insomma l'ho visto chissà quante volte arrivavano dei messaggi sessuali si quando l'albatros scendeva su New York c'erano tanti palazzi e in queste finestrelle c'erano delle immagini sataniche e delle immagini pornografiche quindi sono tutte situazioni particolari che ovviamente creano poi dei dei disagi ai nostri ai nostri film che fanno stessi e di conseguenza con danni poi che che si ripercuotono nella vita nella vita quotidiana qui sono situazioni particolari che poi sicuramente approfondiremo con i discorsi dei determinanti dei determinanti quindi questi sono un po' gli aspetti generali dovuti agli stili di vita insomma quindi dove insomma bisogna far bisogna riflettere su questi su questi aspetti se vogliamo effettivamente non incorrere in situazioni particolari di patologie o di incidenti ecco quindi chiudiamo con questa pagina insomma con questa slide dedicata appunto a quelle che possono essere le cause del vivere male e che vanno poi a rincidere sulla salute e con questo si chiude anche il nostro spazio di questa mattina avevo detto a me con cui avremo tantissimo da parlare mi sa che sarà così perché continueremo la prossima volta oggi abbiamo visto quelle che possono essere le cause e la prossima volta vedremo quelle che possono essere le soluzioni quindi l'appuntamento con il Dottor Domenico Spirazzola sarà per lunedì prossimo e grazie per gli aspettatori e per la pazienza e grazie a te soprattutto no no è bello invece perché vedete si scoprono sempre delle cose nuove e si capiscono meglio certi meccanismi per quanto mi riguarda il nostro tempo finisce qui io torno a ringraziarvi per la partecipazione continuate ad andare i vostri SMS al numero di vedete inscrizione cercherò di prendermi cura di ogni una delle vostre richieste accontentandovi per ora vi auguro una buona giornata ad appuntamento e a domani mi raccomando non portate alle 9 con cui il suo amico il mattino mi ricordo mi sveglio mi sveglio mi sveglio è stato di me che è la mia che è la mia l'unica di più sulle e la mia l'unica che è la mia